Il pignoramento della prima casa è tempi più lunghi per pagare. La Commissione Finanze della Camera taglia le unghie ad Equitalia e avvia un'inversione di marcia nel recupero dei crediti. Una risoluzione approvata all'unanimità impegna il Governo a introdurre nella riscossione forzosa maggiore flessibilità e ad evitare che possa mettere a repentaglio la sopravvivenza economica dei cittadini debitori di Equitalia. La maggiore flessibilità esclude il pignoramento della prima casa qualora essa costituisca l'unico bene patrimoniale del debitore e prevede un ampliamento del numero delle rate del debito tributario per consentire un rientro più graduale, insomma dei termini più comodi. Inoltre, dice la Commissione Finanze, bisogna definire dei criteri certi e non discrezionali nella valutazione della situazione economico-finanziaria del contribuente. Gli altri punti della risoluzione sono la pignorabilità solo su un quinto dei beni utilizzati per l'attività imprenditoriale e professionale, la possibilità di sospendere per sei mesi il pagamento delle rate, analogamente a quanto avviene per i mutui, per il debitore in difficoltà a causa della crisi, l'aumento del numero delle rate non pagate dopo le quali il debitore decade dalla retitizzazione, riduzione degli interessi di mora ed eliminazione degli interessi sulle sanzioni e sugli interessi di mora, limitazione del pagamento anticipato di una quota per esercitare il diritto al ricorso solo ai comportamenti fraudolenti.